Eccoci qua zia Eccoci qua, adesso basta Ascolta Proviamo a fare di nuovo il video Del Magic Wand Giusto zia? Allora, è arrivato il computer Sì Ecco, con il computer c'era la tastiera E noi avevamo già caso il Magic Trackpad Tu quando li usi Invece di stare attaccati così Tu schiacci i bottoni, giusto Schiacci i bottoni zia Schiaccia Sì Ecco, quando schiacci i bottoni Dopo piano piano la tastiera si stacca, giusto? Si stacca lontano Dal Magic Trackpad O no? E qua c'è la nostra soluzione Apri il pacco zia Apri, apri Ah, sbrega, sbrega che non coventa Forbici Oh là Sgarfa dentro E tira e fu Ah no, lì sono cagati Di carte Tira e fu La Geggio Eh, lulli Non sono ferie Da bucci No, no, boh Non mi cagli Dopo butti in via Allora, vediamo cosa c'è qua dentro Eccolo qua Magic Wind Connect Magic Trackpad Apple Wireless Keyboard Della 12 South Adesso vediamo cos'è sta roba però Tiriamo fuori Allora intanto vediamo Dice Magic Trackpad Più tastiera Uguale Dotto Adesso noi proviamo a montare Sta roba qua Vediamo se è facile O è difficile Dentro non c'è più niente, giusto? No Allora Allora Intanto noi apriamo Ci dice Grazie Thank you Per aver speso i beige Eh? Masca al sol Allora abbiamo dentro Una bustina Col pezzo di plastica Che va fra i due Allora Vediamo Come si mette questo zia? Vediamo un po' È indifferente O non è indifferente? Penso che sia indifferente Quindi Se questo deve stare scritto dietro Ne mettiamo Abbiamo la tastiera Allora Mettiamo la tastiera dentro Eh ma non scorre Quando si incastra Si incastra qua L'ho messa male Eh ma di abono Zia Te la voronsca Allora Così Abbiamo incastrato la tastiera Poi dobbiamo mettere Sta bandinella qua Sta bandinella qua Va messa qua così Sulla tastiera Vediamo Così Il pezzo di plastica Come va messo Il pezzo di plastica Zia? Non so io Mi ricordo mica? Bu Forse prima Mettiamo il magic trackpad Su Oddio Allora Incastriamo questo Ecco Dopo lo facciamo scorrere Ecco L'ho messo dentro Rimane quel buco lì Che va coperto Con quella roba lì Just Vediamo qua È una gomma È una gomma ballerina Zia Ecco ecco E noi abbiamo Finalmente la nostra soluzione Tutto incollato Ecco qua zia Vedi Tutto unito Adesso puoi divertirti Col tuo iMac zia Puoi spaccare tutto Puoi disegnare Puoi giocare Puoi scrivere Puoi navigare Puoi ascoltare musica Puoi vedere film Tutto Tutto Anche la vado a schierare Anche quello zia Sì Sei contenta Che adesso È tutto un pezzo unico Eeeh Contenta un poco Perché sono stufa Di queste robe Cominciò a stufarmi A stancarmi Adesso Ma Vedi che adesso È un pezzo unico Su Eeeh Mi dobbiamo Tutto un po' La poltrona Calma Non ti va la poltrona Eeeh Sono mal messa Adesso Seduta Messa male Allora zia Punto dolente Della situazione Eeeh Tanti soldi Eeeh Andiamo a vedere In sterline Sono Trentacinque sterline Circa Circa Abbastanza Beh C'erano 70 euro In italiano In italiano Eeeh Perché il francese Cambia Giusto Eeeh Eeeh Quindi Una tua opinione Zia Vale la pena Avere la tastiera Il magic trackpad Incollati O no Non so C'è una roba Che proprio deve servire Che deve essere Quella roba lì Perché spendi Solo soldi Io non capisco Niente Sono soldi Che vanno fuori Quindi Un saluto a tutti Saluto a tutti Sì E alla prossima Cosa fa Ciao Pekà Cosa 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 controlla La zia Cosa c'è fatto Ma invece Eeeh Ciao Eh Ciao Ciao E沿 Hs Cosa 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 Cosa